Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Simbiosi di Urmilia Ella Pan Zippy aveva percorso una lunga distanza nella savana africana. Fino ad arrivare ad un laghetto. Si dissetò avidamente e andò a riposarsi alla fresca ombra di un albero di baobab. Zippy cercò di addormentarsi, ma si sentiva scomodo e gli prudeva dappertutto. Per giorni e giorni aveva avuto quelle piccolissime pulci su tutto il corpo. Cercò di liberarsi dalle pulci agitando la coda da una parte all'altra. Cercò di liberarsi dalle pulci battendo a terra una ad una le quattro zampe. Cercò perfino di battere le zampe tutte e quattro insieme. Si sfregò tutto il corpo sul tronco dell'albero. Cercò di liberarsi da un po' di pulci leccandosi il muso con la lunga lingua. Ma sembrava che nulla funzionasse. Le pulci non se ne andavano proprio. Né agitarsi, né leccarsi, né sfregarsi, né battere riuscirono a far sì che lo abbandonassero. Alla fine si stancò e si irritò a tal punto che si riotolò per terra con le zampe all'aria. Appollaiati su un ramo del possente Baobab vide due uccellini. Fecero molto rumore, si strizzarono l'occhio l'un l'altro e si lanciarono giù. Ero! Che roba! Ma tutto bene, Pic? Certo, Pec! Sto bene! Ehi, ciao! Mi chiamo Pic ed io sono Pec. Ciao! Con un sorriso imbarazzato, Zippy si rimise in piedi. Ehm, piacere di conoscervi. Mi chiamo Zippy. Hai addosso certe pulci deliziose e appetitose. Pic e Pec si posarono sulla schiena di Zippy. Deliziose? Si lamentò Zippy. Sono così infastidito. Per quanto mi accanisca non riesco proprio a liberarmene. Abbiamo molta fame, Zippy, e adoriamo le pulci. Possiamo mangiarci tutte queste sgradevoli creature? Chiesero Pic e Pec. Ma certo! Servitevi pure! Esclamò Zippy, felicissimo. E gli uccellini iniziarono. Beccarono le pulci sul muso e sulle zampe. Pulirono la pancia di Zippy e la schiena di Zippy. La zebra rimase immobile, permettendo agli uccelli di mangiare a sazietà. E alla fine erano tutti contenti. La zebra era stata liberata dalle pulci fastidiose e i due uccellini si erano goduti un pasto eccellente. Vi ringrazio molto per aver beccato via dal mio corpo quelle pulci sgradevoli. Oh! Dobbiamo ringraziare te per averci fornito un tale pasto di pulci. Un pasto gratuito! Quando gli animali si aiutano l'un l'altro, come Pic e Pec hanno aiutato Zippy, si dice simbiosi. T compile, qualche appena ucci quotidiano. Grazie a tutti.